Dobbiamo girare tutti e due, ma noi che facciamo più? Oh! Poi assumiamo tutti i pesi, assumiamo tutti i pesi La reverente primordia, significa esattamente questo Per il nuovo quartiere, per il nuovo quartiere Quindi, allora, questo è un input per ricordare Ma è un input anche per le nostre autorità civili Per costruire le cose Ma peraltro, sono abituali a fare Quindi, condiviamo davvero con i credenti In questo momento nel quale impugniamo la benedizione del Signore Tutti noi, le persone che tragicamente morirono Per gli incendi, perché sono loro che fanno la storia Delle paracche che si bruciarono Quindi, immaginate quanto ci sia dentro Questa piccola grande pigrafe Che dice un piccolo grande evento Che narra il passato Ma vuole narrare anche attraverso le nostre persone Il futuro di questo quartiere Di questo nostro quartiere